Maggio è il mese delle rose della festa della mamma e soprattutto per i cattolici mese di Maria. Una tradizione la cui origine si perde nella notte dei tempi, forse addirittura dalla necessità di cristianizzare le celebrazioni pagane legate all'esplosione della primavera. Non a caso il nome Maggio deriva da Maia, antica dea romana della fertilità e dell'abbondanza. Nel XIII secolo Alfonso X, il saggio, re di Castiglia e Leon, in Las Cantigas de Santa Maria, celebrava Maria come rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce dei santi e dei cieli. Anche il beato Domenicano Enrico Suso di Costanza, sempre nel XIII secolo, nel Libretto dell'Eterna Sapienza, si rivolgeva così alla Madonna. Sii benedetta tua aurora nascente sopra tutte le creature e benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo bei viso, ornato con il fiore rosso rubino dell'Eterna Sapienza. Il Medioevo vide anche la nascita del Rosario, il cui richiamo ai fiori è evidente sin dal nome. Ai tempi della Chiesa delle Origini ci sono prove dell'esistenza di una grande festa in onore della Beata Vergine Maria, celebrata il 15 maggio. Ma solo nel XVIII secolo, il mese di maggio, è stato associato alla Vergine Maria grazie a padre Latomia del Collegio Romano della Compagnia di Gesù, che, per contrastare l'infedeltà e l'immoralità diffuse tra gli studenti, alla fine del XVIII secolo fece il voto di dedicare il mese di maggio a Maria. Da Roma la pratica si diffuse agli altri collegi gesuiti e da lì a quasi ogni chiesa cattolica di rito latino. Le prime pratiche devozionali a Maria, legate in qualche modo al mese di maggio, risalgono però al XVI secolo, in particolare a Roma grazie a San Filippo Neri, che insegnava ai suoi giovani a circondare di fiori l'immagine della madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di mortificazione in suo onore. L'indicazione definitiva del mese di maggio come mese di Maria lo dobbiamo però a un altro padre gesuita Annibale Dionisi, veronese, nato nel 1679 e morto nel 1754, che a Parma, con lo pseudonimo di Mariano Partenio, pubblicò il libro Il mese di Maria, ossia il mese di maggio consacrato a Maria con l'esercizio di vari fiori di virtù proposti a veri devoti di lei, con l'invito a vivere e a praticare la devozione mariana nei luoghi quotidiani, nell'ordinario, non necessariamente in chiesa, per santificare quel luogo e regolare le nostre azioni come fatte sotto gli occhi purissimi della Santissima Virgine. Nel 1945 Pio XII ha avvalorato l'idea di maggio come mese mariano dopo aver stabilito la festa di Maria Regina il 31 maggio, oggi spostata al 22 agosto. Ancora Pio XII, nell'Encilica Ingruensium Malorum del 1951, invitò a non trascurare la recita del rosario, soprattutto nel mese di maggio. Anche il Magistero Recepia incoraggiò questa devozione nata dal popolo. Nell'Enciclica Mense Maio del 1965, Paolo VI indica maggio come il mese in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più affettuoso dal cuore dei cristiani, sale a Maria l'omaggio della loro preghiera e della loro venerazione. Nessun fraindentimento però sul ruolo della Vergine nell'economia della salvezza. Già che Maria, scriveva ancora a Papa Montini, è pur sempre strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi in un incontro con Cristo stesso. Anche Papa Montini attribuiva una straordinaria importanza al rosario recitato in famiglia. Non vi è dubbio, scriveva nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, che la corona della Beata Vergine Maria sia da ritenere come una delle più eccellenti ed efficaci preghiere in comune che la famiglia cristiana è invitata a recitare. Noi amiamo, infatti, pensare e vivamente auspichiamo che, quando l'incontro familiare diventa tempo di preghiera, il rosario ne sia l'espressione più gradita.